Ah, questa è la scorecard dell'Europa Pro Inghilterra di Avantieri, come potete vedere Qui dove ho zoomato, Presti stava vincendo nel pre-judging e poi ha perso nelle finali Per chi non sapesse come funzionano le scorecard, il punteggio più basso vince E poi si fa la somma tra il pre-judging e le finali e il risultato più basso vince Quindi non è che chi ha più punti vince, è l'esatto contrario in sostanza Poi avevo fatto un video per anni fa dove spiegavo come funzionassero le scorecard Se spulciate lo trovate nel canale Quindi, come ho già detto ieri, non è stato un furto Poteva vincere Presti? Assolutamente sì Ha vinto Bruno Santos e secondo me non ci deve essere niente da dire È il classico caso in cui poteva vincere prima o come poteva vincere secondo È una cosa che ho già detto altre volte in altre gare Sono cose che succedono Cioè, non bisogna parlare di furto Perché, come detto, sono cose che succedono Ma, secondo me, c'è gente che proprio fa presto a parlare di furto Ogni volta che non vince quello che vuole che vinca Si parla di furto All'Olimpia era un furto perché ha vinto delle Clansford All'altro giorno era un furto perché ha vinto Bruno Santos e non ha vinto Presti Cioè, è andata così Io sono dell'idea che fossero vicini Presti sicuramente molto più definito Santos, volumi superiori nelle gambe, nei tricipiti Secondo me hanno pareggiato anche in quanta posa per quanto mi riguarda Gli ne do quattro a testa in sostanza Oppure tre a testa più due pareggi Almeno io mi sono fatto in questo stile da frontevole bicep a Presti Latspred a Santos Side chest a Presti Back table bicep a Presti Back latspred a Bruno Santos Side tricep a Bruno Santos Absentise pareggio Perché a Presti gli mancano le gambe Cioè, non è che gli mancano, sono inferiori rispetto a quelle di Bruno Santos E Mos Masqua pareggio Io l'ho vista così Detto ciò, chi vuol far polemica farà polemica E passando a uno che ha rubato ovviamente l'anno scorso il send A Richupan Derek Lansford Il sollevatore di Bibbie Che in questo caso non sta sollevando Bibbie Io vorrei sapere davvero Quelli che hanno gridato al furto l'anno scorso Cosa hanno in testa Perché questa è una delle schiene migliori Del programma del bodybuilding degli ultimi dieci anni Ma ovviamente non è che sto dicendo questo Perché ha vinto solo per la schiena Cioè, parliamoci chiaro Era una cosa che ho detto Anpassant Di sicuro ha avuto una delle migliori schiene negli ultimi dieci anni Quest'anno arriverà secondo me ancora meglio l'anno scorso Sarà più definito Anche Richupan sarà più definito l'anno scorso Saranno entrambi in una condizione superiore Rispetto a un anno fa Però io sono dell'idea che vincerà ancora Derek Lansford Secondo me è un bodybuilder superiore E anche in questo caso Come per Presti Bruno Santos Era più definito A Richupan Ma la definizione non è tutto È ovvio che sia un parametro importantissimo Però ci sono anche altri fattori Cioè, se no allora basterebbe essere ultra definiti E diamo il titolo a Lucas Osladil Perché era sempre definito Cinque anni fa quando gareggiava all'Olimpia E gli altri se ne possono andare a casa E dico ciò ovviamente in stessa di parte Cioè, a me piace Derek Lansford Ma mi piace molto anche Adi Chupan Cioè, la gente secondo me ha questa idea Che io voglia che vinca Derek Lansford Che non mi piace Adi Chupan Cioè, è fantastico Adi Se Derek caga fuori Adi vince sicuramente quest'anno Però secondo me Derek non cagherà fuori quest'anno Passando a un altro che deve gareggiare a breve Brett Wilkins farà il Legend Sports Fest Per cercare di qualificarsi per l'Olimpia 2025 Ed è una cosa buona e giusta Perché vorrebbe dire Farsi un anno di off-season Prima di gareggiare all'Olimpia 2025 E prendersi la qualifica Così come vuole fare Presti in Francia Non ho capito bene quando sia la gara Di Presti in Francia Non credo sia questa settimana Però Correggetemi se sto sbagliando Perché Non ho ben capito Come dicevo Quindi Per quanto riguarda Brett Wilkins E per quanto riguarda Presti Cioè Fanno davvero benissimo Cercare di qualificarsi subito Perché vorrebbe dire Prenersi un anno di off-season A prepararsi bene Per l'Olimpia Dell'anno prossimo Senza dover gareggiare Spera rotture di coglioni in mezzo Brett è un bodybuilder Che a me piace molto Lo sapete bene È un po' Sul versante piccolo Tra virgolette Però È molto molto Completo Purtroppo Non lo vediamo gareggiare Da un po' di tempo Se non sbaglio Forse addirittura Quando aveva Vinto contro Presti Prima dell'Olimpia Due anni fa Qualificandosi per l'Olimpia L'anno scorso Dove poi Non aveva gareggiato Ho fatto un bel giro di parole Però Penso di essermi spiegato Comunque Brett Aveva vinto una gara nel 2022 Qualificandosi per l'Olimpia 2023 Dove poi non ha Gareggiato E adesso Ci riprova Nello stesso modo Per il 2025 Quindi Vedremo a Legend Sports Fest A fine mese Se riuscirà A strappare Questa Qualifica Qualificarsi L'Olimpia Per l'anno prossimo E farsi una bella Off-season Come vuol fare anche Presti Concludiamo con Dele Ricotti Che sta continuando a pubblicare Gli ottimi aggiornamenti Davvero quest'anno Mi sembra molto migliorato Rispetto all'anno scorso Rispetto a Due anni fa Ha fatto davvero Gli ottimi miglioramenti La vita è sempre stretta Le spalle sono larghe Ha messo Un po' di massa in più Nei quadricipiti E sta migliorando anche La schiena Come punti deboli Gli do ancora un po' di Densità Nella schiena Soprattutto nella parte bassa Però sta migliorando Sta migliorando molto I deltoidi Sono un po' troppo Sviluppati Rispetto al trapezio La parte bassa È centrale Della schiena Però Secondo me Sono stati davvero Gli ottimi Passi avanti Rispetto all'anno scorso Io non mi stupire Che si avvicinasse Pericolosamente A una Top 10 Nel Classic Poi chiaramente Io non le conosco Tutti i bodybuilder Il Classic Come conosco Quelli della Open Praticamente Sono troppi Quelli del Classic Che non segue Neanche così tanto Il Classic Però Mi sembra Decisamente Migliorato Lo vedremo Tra un mesetto Sul palco Dell'Olimpia Poi tra l'altro In questi giorni Penso che farò Un video di recap Di riepilogo Dove Parlo di Tutti I qualificati All'Olimpia Poi ci sarà davvero Tanto da lire In questo mese Di avvicinamento All'Olimpia Quindi Scrivete nei commenti Se avete qualche Richiesta Particolare O qualche cosa Che potrei fare Di interessante Per avvicinarci Nel migliore dei modi All'Olimpia Buona All'Olimpia All'Olimpia